Dobbiamo cercare di dare un futuro a noi stessi, non solo a noi, ma anche ai nostri giovani. L'importante è che diventi senatore. Buongiorno professore, appena lei diventa senatore. Ma lei è contenta di questa candidatura? Dobbiamo combattere tutti insieme se vogliamo una società migliore. Senatore, quando la facciamo con l'intervista? Dateci la possibilità di costruire il nostro futuro qui! Allora vengo con te che devo comprare un regalo. Sì, certo. Papà, dove andiamo a mangiare il dolcino? Sì, papi, quello dell'altra volta era buonissimo. Ho fatto la mia scelta, ho preso la mia decisione.